Mi distraevo perché poi i laterali sono sempre quelli un po' più... meno vissuti, invece poi la partecipazione è tanta. Riuscite a sentire anche bene da lì? Sentite bene? Che meraviglia! Allora, c'è un momento in cui uno riemerge, come dico ogni sera, e questa cosa mi fa anche molto effetto, perché poi... in queste due ore sono stato un po' sommerso, così, e quindi adesso comincio a vedere qualche sguardo, anche molto bello. Che meraviglia, ma guardate, che bellezza! Qui dove siamo, Beneventano, ma non ho detto che... Beneventano, come dire, c'era tanta meraviglia da vivere. Che terribile! Ma no, allora, guarda, adesso facciamo una di quelle foto da fare in video agli altri colleghi, perché adesso c'è questa, come dicevo l'altra volta, c'è questa gara a chi ha più braccia alzate, a chi ha... Allora io c'ho più pubblico, no, ce n'è meno te, ce n'ho più tante, ce n'ho più io, ce n'è più... Allora, questa cosa comincia a diventare una cosa anche un po' grottesca, se vogliamo. E' un po' ridicola, ma è meravigliosa, perché poi proprio perché ogni tanto bisogna ironizzare anche sulla no, su queste cose, su questi... E questi momenti vanno anche, come dire, no? Fissati, perché è una cosa bella, anche se poi sta diventando un po' un giochino del web, ma... Ma insomma, bisogna giocare, ci hanno detto che dobbiamo giocare, giochiamo? Dai, giochiamo anche noi! Giochiamo tutti insieme, braccia alzate! Vai! Sicuro? Tutti alzate? Tutti? Ma tutti, tutti! E questo è il vantaggio dei vedi... Ma che belli, che belli, belli, belli! E' proprio il caso di... Di cantare una canzone che quest'anno mi ha dato la possibilità di tornare... E questo... Su quel palco meraviglioso! Brava, vedo che già la canti bene, eh! Ammappa, bravissima! Mi fa piacere! Mi anticipa... Però quella è la seconda stroca! Hai saltato tutto un pezzo! La canzone che mi ha dato la possibilità di tornare a voi, di tornare a fare un nuovo disco, Vivere e Rinascere, che oltre che ad essere un meraviglioso tour, vissuto con tutti questi grandi amici, devo dire, insomma, oggi siamo un po', no? Agli sgoccioli! E ci siamo, insomma, purtroppo, agli sgoccioli! Gli sgoccioli! No, ma in realtà poi... Come dire, uno... Sembra sempre... La vita va proprio apprezzata in certi momenti, perché a volte ci sembra sempre, come ho detto mille altre volte, ci sembra sempre tutto scontato, non sembra che le cose debbano arrivare perché uno dice, vabbè, ma tanto, ma sì, ma tanto... No, ma poi, questi sono veramente regali del cielo, grazie infinite a voi, veramente. Serate come questa, io veramente non... Come farò a dimenticare questi concerti, queste serate, questi occhi, queste emozioni? Veramente, come potrò? Come potrò? Mani nelle mani! E poi passano così, che ne accorgi quando sono andati via, e ti lasciano aggrappato ad una scia di ricordi, di ricordi, quanti sono i giorni belli di un amore, per lì che non te li puoi dimenticare, mi nascondi dentro un cuore, e quando stai in male, mi vai a sconferare. Mali nelle mani! Mali nelle mani! Mali nelle tue ragazze, in giro e dentro, non muovi canzone di poesia, domani, noi domani, ma stanotte tu rimani, non mi chiederò di fargli andare via, Tu sei passione e colmento, tu sei a un'ora in tramonto, vorrei tornare a te i giorni, a quel viaggio che dormimmo in un fienile, a un panzer da ubriaco in ribarpa, a una stanza dove ci batteva il sole, tutto il giorno, tutto il giorno, dove vanno i giorni belli di un amore, Quei momenti che non puoi più cancellare, mi addormentano nel cuore, e quando fa buio, mi vai a carezzare. Mali nelle mani siamo due ragazzi, in giro e in cerca di canzone e di poesia, domani è già domani, adesso dimmi se rimani, sei convinta di voler andare via, Tu sei passione e colmento, Tu sei aurora in tramonto, Tu sei aurora in tramonto, Mani nelle mani le due mani le due mani le due mani tra le mie, Tu sei passione e colmento, Tu sei aurora in tramonto, Tu sei aurora in tramonto, Tu sei aurora in tramonto, Vorrei che fossi volermi, E con te tornare a quei giorni. E con te tornare a quei giorni.